Buongiorno, vedo che già siete molti, io sono Michela Di Bitonto di Forma SPA e benvenuti al webinar dedicato a PagoPA, quindi ai pagamenti elettronici. Buongiorno, vedo che mi state rispondendo in chat, benissimo, siete già un buon numero, siete 197 in questo momento. Benissimo, attendiamo ancora qualche minuto che entrino gli altri partecipanti e nel frattempo vi presento il webinar di oggi che appunto è dedicato ai pagamenti elettronici e in particolare a PagoPA. Avremo con noi oggi Franco Frulletti di Agit, project manager dell'area trasformazione digitale, servizio finanziario e contabilità. Subito dopo l'intervento del dottor Frulletti abbiamo la testimonianza della Regione Veneto con Antonino Mola che è il responsabile di MyPay e dei pagamenti telematici e non solo. E quindi avremo questo programma come sempre intenso di interventi e come sempre quindi avremo una panoramica generale appunto del dottor Frulletti con invece una testimonianza di un APA che possa insomma servire in qualche modo da modello, da ispirazione anche per altre pubbliche amministrazioni. Vi ricordo che questo webinar organizzato all'interno del ciclo innovazione digitale è all'interno di una convenzione tra Agit e Forma SPA Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo di questi webinar è quello ovviamente di agevolare il lavoro delle amministrazioni verso il percorso di trasformazione digitale. I nostri riferimenti ovviamente sono il CAD e il piano triennale per l'informatica dell'APA. Approfitto di questo momento insomma anche per aspettare altri partecipanti che si colleghino per presentarvi insomma questo ciclo di webinar finora organizzati all'interno di questa convenzione che infatti stanno svolgendo da novembre e si svolgeranno anche nei prossimi mesi. In questa pagina di eventi IPA vi ho messo il link sotto in fondo a queste slide, cliccando potete vedere l'elenco di tutti i webinar finora realizzati e all'interno di ogni pagina potete trovare la registrazione e le slide che sono state condivise dai nostri relatori. Quindi vi invito se vi interessa qualche tema appunto di questi webinar a collegarvi e appunto a visionarli tranquillamente insomma in autonomia. I primi webinar che abbiamo organizzato nel 2017 sono stati dedicati ai ruoli chiavi per la digitalizzazione dell'APA, poi abbiamo fatto un webinar sullo stato di digitalizzazione dell'APA con i risultati della commissione d'inchiesta preseduta da Coppola e adesso ci stiamo concentrando appunto sul piano triennale. Quindi abbiamo cominciato con Data and Analysis Framework, Cyber Security e Data Center e Cloud Computing la scorsa settimana. La prossima settimana abbiamo un webinar dedicato a Speed dove avremo appunto una presentazione sempre fatta da Agit più due testimonianze questa volta. Abbiamo la regione Lombardia e la regione Toscana. Per partecipanti. Allora il nostro modello quindi in questo momento visto che ci stiamo focalizzando sul piano triennale è quello appunto del modello strategico di evoluzione del sistema informativo dell'APA e come avete visto anche dal nostro programma abbiamo parlato quindi di sicurezza, quindi della colonna diciamo laterale sinistra, di Data and Analytics Framework, quindi la colonna a destra. La scorsa settimana abbiamo parlato di infrastrutture fisiche quindi diciamo un po' quella che costituisce la base per tutto quindi Data Center e Cloud e questa settimana oggi ci concentreremo su Pago.pa e la prossima su Speed quindi su quelle che vengono definite invece le infrastrutture immateriali e in particolare sulle piattaforme abilitanti. Allora vi ricordo che nella chat potete fare le domande ai relatori quindi vi invito a scrivere nella chat le domande, noi faremo una selezione e cercheremo di rispondere a quanto più domande possibile. Vi ricordo inoltre che la registrazione e i materiali verranno pubblicati nella margina di questo evento su Eventi IPA e in particolare appunto su questa pagina quindi qui a questo link troverete i materiali condivisi dai nostri relatori di oggi nonché la registrazione al webinar insomma non appena sarà pronta. Quindi a questo punto io direi che siamo arrivati a 260 partecipanti, avevamo 653 iscrizioni a questo webinar e probabilmente entreranno altre persone però direi a questo punto di dare la parola al dottor Frulletti di Agid a cui chiedo insomma di attivare microfono e webcam in modo da avviare e entrare nel concreto del webinar di oggi. Benissimo dottor Frulletti, vediamo se il microfono funziona correttamente, le lascio la parola. Benissimo, la sento, spero che l'audio sia buono. Sì sì ti sento bene, se puoi avvicinare un altro pochino il microfono forse è meglio, benissimo. Allora ti cedo la parola, buon webinar a tutti e attendiamo le slide. Grazie mille Michela. Allora buongiorno a tutti i partecipanti, io mi scuso in anticipo, ho un pochino di raffreddore, spero che nonostante tutto si senta in maniera buona la mia voce. Ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio naturalmente il Formez che ci ha dato questa opportunità di essere qui e di potervi raccontare queste cose inserite in questo piano organico che raccontava prima la collega Michela di Bitonto. Io in particolare stamani vi racconterò Pago.pia, come accennava appunto la collega racconterò un po' che cosa significa Pago.pia e qual è la situazione a livello nazionale e dopodiché il collega Antonino Mola di Regione Veneto racconterà una delle esperienze assolutamente interessanti in corso, anzi diciamo ormai partita tra le primissime con Pago.pia da parte della Regione Veneto. Anticipo che quando partiranno adesso le mie slide, una cosa che pensavamo fosse utile per vedere un pochino la situazione anche rispetto ai partecipanti è lanciare un piccolo sondaggio di un'unica domanda che aiuti a capire qual è un pochino lo stato del sistema. Ecco, le mie slide a questo punto le vedo, a parte il titolo, io sono Franco Frulletti, come introduceva la collega Michela sono Project Manager in Agile e mi occupo specificatamente del progetto Pago.pia. Prima di iniziare con le mie slide, lancerei con tutti i partecipanti questo sondaggio, almeno per avere un pochino un flash su chi partecipa a livello di Pago.pia, a che punto è magari nel percorso. La domanda è molto semplice, ognuno di voi, almeno chi di voi è in un ente creditore, quindi un ente pubblico o comunque un ente controllato dal pubblico, come poi vedremo, se cortesemente può aiutarci a capire un po' la situazione rispetto ai partecipanti del proprio ente. Le risposte possibili sono semplicemente tre risposte di base e quindi dichiarare che il proprio ente ha aderito al sistema Pago.pia ed ha attivato servizi al cittadino, uno o più servizi, quali e quanti siano, ovviamente non importa, ma l'importante è che si sia cominciato e quindi i cittadini del proprio ente possono già usufruire dei servizi di pagamento Pago.pia. Oppure, seconda risposta, l'ente che ha effettuato sì l'adesione formale a Pago.pia, ma ancora non ha potuto attivare alcun servizio di pagamento per i cittadini, quindi è in una fase transitoria di lavorazione, per cui l'adesione l'ha fatta e quindi si suppone che stia lavorando, ma ancora il lavoro non è a compimento. E terzo stato è capire quelli che non hanno ancora affatto aderito a Pago.pia, quindi ovviamente chi non è ancora aderito, ovviamente si suppone che poi meno ancora abbia potuto ancora fare nulla come parte progettuale. e quindi non abbia ancora potuto mettere a disposizione dei cittadini propri utenti nessun servizio di pagamento attraverso Pago.pia. Lascerei un attimo di tempo proprio per chi di voi può rispondere a queste domande e poi inizierei la parte di presentazione vera e propria. Va bene, intanto introdurrei il quadro di contesto in cui nasce Pago.pia, lascerei anche per le colleghe che ci seguono dalla parte regia le domande ancora un attimino, tanto la slide mi serve solo come tema, ma lascerei ancora per questa slide e poi cortesemente magari lo toglierei per le successive la parte del sondaggio, per introdurre il quadro di contesto di Pago.pia, soprattutto con un fil rouge che è questo. Pago.pia nasce, la prima cosa che vorrei chiarire, nasce per motivi economici, assolutamente economici, poi ha una serie di vantaggi e di utilità a livello nazionale che spero di riuscire a raccontarvi in maniera più precisa nel corso della presentazione, ma il motivo per cui nasce Pago.pia è la strategia Europa 2020, che è una strategia di obiettivi economici dell'Unione Europea, nell'ambito della quale si è convenuto che la digitalizzazione dei paesi non è soltanto un migliore efficientamento o qualcosa di più sofisticato, ma è un fattore economico fondamentale e trainante, quindi i motivi sono essenzialmente economici. Ogni nazione è stata poi chiamata a redigere un'agenda digitale propria, ovviamente la nostra è l'agenda digitale italiana che fa riferimento al decreto crescita 2.0, da lì è stato definito dall'agenzia, per nome e per conto della Presidenza del Consiglio di cui facciamo parte, la strategia per la crescita digitale, che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri di marzo 2015, qui sono state definite quelle che sono le azioni infrastrutturali cross per tutto il paese e sono state definite le piattaforme abilitanti, quindi le soluzioni specifiche per quanto riguarda i punti particolari particolarmente importanti dell'agenda digitale. Una di queste piattaforme abilitanti è appunto Pago.pia, è la piattaforma che serve, è l'oggetto di oggi e quindi lo vedremo più dettagliatamente, per la gestione dei pagamenti in modalità elettronica, ovviamente stiamo parlando, a favore delle pubbliche amministrazioni, quindi naturalmente chiarisco una cosa che è ovvia, ma a volte ha prestato il fianco a qualche interpretazione non proprio perfetta, pagamenti a favore ovviamente significa incassi che le amministrazioni fanno e faranno in veste di enti creditori. Ultimo punto di questo percorso che ho citato è il piano triennale, nel senso che il piano triennale che le amministrazioni sono chiamate a fare per la spesa informatica comprende una serie di direttive per focalizzare gli investimenti sui punti fondamentali dell'agenda digitale, uno di questi è appunto Pago.pia, dove è fortemente richiamato il tema dei pagamenti elettronici. Io a questo punto chiederò alle colleghe cortesemente di togliere magari il pop up e vado avanti con la presentazione per ricordare quali sono i riferimenti normativi, diciamo che l'obiettivo di Pago.pia è molto concreto, è un obiettivo come dicevo prima essenzialmente economico a livello nazionale, però chiaramente essendo pubblica amministrazioni si basa su un costrutto normativo che è qua ripilogato. Il primo punto è il CAD, quindi il codice dell'amministrazione digitale e un addendum dato dal decreto legge 179 2012, da cui lo dico in maniera ovviamente molto sintetica visto i termini di tempo e gli argomenti che dobbiamo trattare nel webinar presente, ma sinteticamente diciamo che il combinato disposto si direbbe a livello legale delle due cose, recita che tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a rendere disponibili i pagamenti elettronici di tutti i loro servizi e lo devono fare attraverso il sistema nazionale Pago.pia, i gestori di pubblici servizi ancorché privati hanno facoltà di aderire, quindi se vogliono aderiscono e noi li accogliamo ben volentieri ma è una loro facoltà, i prestatori di servizi di pagamento, quindi tutti quegli enti abilitati da Banca d'Italia, come banche, poste, istituti di pagamento di moneta elettronica, anche loro hanno facoltà di entrare ma non ne hanno obbligo e cosa a maggior ragione che sottolineo facoltà per i cittadini e imprese di utilizzare Pago.pia, lo sottolineo perché questo è un tema che anche questo sembra ovvio e scontato, ma tante volte mi è capitato di discuterlo con varie amministrazioni, magari anche con gli stessi prestatori di servizi, soprattutto le banche, i cittadini, quindi noi stessi in veste di cittadini non siamo obbligati assolutamente ad utilizzare Pago.pia, l'impegno che abbiamo noi in primis come agenzia e ovviamente insieme con tutte voi amministrazioni è quello che come cittadini venga utilizzato Pago.pia non perché c'è nessun obbligo, ma semplicemente perché è il miglior sistema da utilizzare, è conveniente e ha una serie di vantaggi per tutti. Successivamente sono state editate le linee guida agile che compongono la normativa secondaria, sono state pubblicate nella gazzetta ufficiale di febbraio 2014 e dettagliano tutte quelle che sono le modalità tecnico funzionali di funzionamento del sistema e quindi sono quelle che hanno costituito e costituiscono la guida per i modelli di utilizzo di Pago.pia e per le realizzazioni tecniche che sono state fatte relativamente a Pago.pia. Novità importante a settembre 2016 che sottolineo perché ormai il settembre 2016 è passato da un anno e mezzo abbondante, ma la percezione che abbiamo noi è che ancora non sia stata tanto recepita, almeno non certo su vasta scala, è stato confermato tutto quanto detto sopra di CAD, decreto legge del 179, ma nella revisione del CAD è stato aggiunto un elemento importante, vale a dire l'obbligo di adesione è stato esteso dall'EPA in senso stretto, quelle, tanto per dirlo in termini spicci, che risultano comprese nell'indice delle pubbliche amministrazioni, quindi il cosiddetto IPA, è stato esteso, dicevo, a tutte, dico tutte, le società e gli enti a qualunque titolo controllate dalle pubbliche amministrazioni, la maggior parte abbiamo visto che sono società che si occupano di ambiente, di trasporti, parcheggio e cose del genere, ma da settembre 2016 sono tutte obbligate ad aderire a Pago.pia esattamente come lo sono dall'inizio le pubbliche amministrazioni in senso stretto. Ultimo decreto legge che ho ritenuto utile citare, perché è recentissimo, è di dicembre scorso e è stato tramutato in legge a gennaio, obbligo per tutti i PSP dal 1 gennaio 2019 di utilizzare esclusivamente Pago.pia per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, quindi nemmeno i PSP potranno fare scelte diverse dal 1 gennaio 2019. Chi sono quindi ripilogando gli stakeholders di Pago.pia, ovvero tutti quelli che sono in qualche modo toccati di interessati? Allora in primis sono gli enti creditori, cioè gli enti che riceveranno pagamenti, quindi pubbliche amministrazioni, enti controllate dalle stesse e gestori di pubblici servizi. La situazione attualmente è così, il sistema è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e per tutti gli enti controllati dalle stesse, è facoltativo per gli enti creditori privati che sono gestori di pubblici servizi, quindi se la signora Alitalia o la signora Acea o il signore Ellen, per dire alcune grandi società che svolgono servizi pubblici, vogliono aderire, sono ancorché enti privati, società private, sono assolutamente ben accetti al sistema, ma non ne hanno alcun obbligo. I PSP, stessa cosa, sono tutti ben accetti all'interno del sistema, ma non ne hanno obbligo, è una loro facoltà, poi come vedremo in realtà è una facoltà che stanno cavalcando tutti, per cui praticamente credo che ormai quasi tutte le banche e gli istituti abilitati sono ormai aderenti a Pago.pa, verso la fine della mia presentazione vi presenterò anche un po' i numeri riepilogativi, comunque dal punto di vista della legge per loro è facoltativo aderire. I partner tecnologici, ovvero quelle società tecnologiche che possono aiutare le amministrazioni, gli enti creditori, anche loro hanno la facoltà di essere censiti, non sono aderenti a Pago.pa, ma sono censiti e sono nominati di volta in volta dagli enti creditori che li utilizzano come propri fornitori. Infine gli utenti che sono cittadini e imprese, come dicevo prima l'utilizzo è assolutamente facoltativo, noi contiamo che lo utilizzeranno e molto, semplicemente perché vuol dire che sarà una buona cosa da utilizzare. Che cos'è Pago.pa molto esinticamente? Pago.pa è un sistema completo, forse alcuni di voi che hanno avuto modo di vedere un po' l'operato dell'Agenzia per l'Italia e Digitale anche in tempi passati, quando magari si chiamava AIPA, CNIPA o Digit.pa l'hanno vista come un ente che faceva regole e modelli, in questo senso Agid ha ampliato un po' la sua sfera di azione perché il sistema Pago.pa si compone anche di regole e modelli, ma si compone anche di altre cose, quindi in tutto abbiamo le normative perché ovviamente sono il fondamento del sistema, ma abbiamo le regole che sono compendiate dalle linee guida e le relative specifiche attuative, più una serie di monografie che vengono ovviamente man mano costantemente ampliate e aggiornate con il cambiare e l'incrementarsi delle tecnologie che girano veramente in maniera molto veloce e rapida nel sistema di pagamenti a livello internazionale. Le infrastrutture, io le ho ripilocate tutte con il tema nodo Pago.pa, in realtà il nodo Pago.pa è il sistema di riferimento a livello nazionale, quindi il nodo al quale si collegano da una parte tutti gli enti creditori e dall'altra parte si collegano tutti i prestatori di servizi di pagamento. Le best practice, ovvero le modalità di lavoro che noi stiamo applicando, la possibilità di riussare del software e soprattutto la condivisione delle esperienze. Regione Veneto ne è una testimonianza e l'intervento poi del collega Antonino Mola che parlerà dopo di me, spero che ve ne dia almeno un flash col tempo a disposizione. Non è un portale su cui effettuare pagamenti, anche questa sembra una banalità, ma ogni tanto ci sono arrivate anche chiamate dirette da cittadini che per pagare pensano di dover trovare un portale di pagamento sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Non è assolutamente così, il front end per i pagamenti sono i siti, e adesso vedremo come in dettaglio, delle pubbliche amministrazioni, cioè degli enti creditori o in un'altra modalità i siti dei prestatori di servizi di pagamento, ma mai il sito Agile. Il sito Agile serve di supporto per tutti gli stakeholder, ma non si possono e non si devono fare pagamenti sul nostro sito, non ce n'è proprio la possibilità. I benefici sono questi principalmente, sono un po' per tutti i partecipanti al sistema Pago.pa, ovviamente in primis io metto cittadini ed imprese, perché il sistema è dedicato a tutti noi in veste di cittadini o imprese e quindi è innanzitutto la disponibilità di poter avere pagamenti elettronici per ogni tipo di servizio, quindi chiarisco lato amministrazione, questo vuole dire che tutti i servizi vanno agganciati a Pago.pa, chiaramente andranno agganciati con un piano progressivo nel tempo, nessuno si immagina che si accende un interruttore e dalla sera alla mattina tutto passa attraverso Pago.pa, ma viceversa i cittadini hanno diritto a poter pagare in modalità elettronica tutte le tipologie di servizio. La libertà di scelta di PSP canale strumento di pagamento, questa è l'altra grossa novità di Pago.pa, perché anche le amministrazioni che avevano precedentemente possibilità di far pagare in modalità elettronica normalmente lo facevano con un unico ente riscossore che molto spesso, per non dire sempre, era la banca tesoriera e quindi il cittadino era costretto a usare quella perché era l'unica scelta dall'amministrazione. Adesso non è così con Pago.pa, io cittadino posso scegliere liberamente innanzitutto qual è il PSP che preferisco, quindi posso scegliere poste, posso scegliere una banca, posso scegliere di pagare presso i tabaccai, sisal, automatica o chi voglio, posso scegliere il canale, quindi significa che posso scegliere se vado a uno sportello fisico, utilizzo non banking o qualunque altro canale utilizzato e posso scegliere lo strumento di pagamento bancario che preferisco, quindi la debito e il conto, carte di credito, carte di debito, tutto quello che il mercato libero mi mette a disposizione. Ho trasparenza perché ho diritto di sapere prima di fare l'operazione quanto mi costa, ho minori costi di commissione e qui chiarisco, non perché noi come agenzia facciamo delle convenzioni nel senso dei costi e spuntiamo dei costi formidabili, no, l'obiettivo condiviso con Banca d'Italia è quello di creare un libero mercato per cui i minori costi sono dati molto semplicemente dalla concorrenza, concorrenza tra tutti i prestatori di servizi italiani e internazionali perché il sistema è assolutamente aperto anche a prestatori di servizi di pagamento internazionali e diversi già ne stanno entrando nel nostro sistema. Standardizzazione dell'interfaccia che vuol dire che io cittadino, una volta che ho imparato ad utilizzare Pago.pa, lo utilizzo in maniera del tutto analoga, del tutto omogenea perché tutti gli enti creditori devono seguire le stesse regole, quindi non può capitare che se io pago una cosa a Reggio Calabria devo imparare una modalità di pagamento e poi magari se devo pagare una cosa a Milano è tutta diversa, oppure se la devo pagare per un ente pubblico è diversa dal più piccolo degli enti locali, no, la modalità è assolutamente omogenea, quindi dal più piccolo dei comuni al più grande dei ministeri io cittadino ho diritto ad averlo in una modalità unica, quindi quando ho imparato quella che poi è una modalità molto semplice, devo dire perché è assolutamente la modalità analoga a quella di un qualunque sito di e-commerce, io posso pagare con quella stessa modalità tutti. Infine la quitanza è liberatoria, in certi casi magari può servire o meno, ma comunque la quitanza con Pago.pa per legge è liberatoria. Dal punto di vista degli enti creditori il primo vantaggio fondamentale che io l'ho totalmente per scontato che non l'ho nemmeno messo, ma mi permetto di ricordarlo è ovviamente quello che implementando il sistema io a ente creditore do un buon servizio ai miei cittadini e quindi questo è il primo obiettivo fondamentale. Detto questo però anche le stesse amministrazioni hanno dei vantaggi specifici e sono riportati nella slide essenzialmente tre cose molto concrete, la prima è la riconciliazione dei pagamenti è fatta in maniera automatica, quindi tutte quelle amministrazioni, è chiaro che magari questo vale più per le amministrazioni più grandi e più estese, ma vale comunque per tutti, che hanno ad oggi problemi di riconciliazione, cioè a capire quando arrivano i pagamenti chi ha pagato e che cosa ha pagato, questo viene risolto in maniera del tutto automatica. Oggi ci sono, credetemi sulla parola perché poi interfaccio tutte le pubbliche amministrazioni italiane, tantissimi problemi, poi ognuno di voi può pensare quanto ci si riconosce o meno, ma a livello nazionale tantissimi problemi di riconciliazione, vale a dire somme in molti casi anche molto, molto elevate che entrano dalle pubbliche amministrazioni da cittadini che hanno effettivamente pagato, quindi non stiamo parlando di cose che non vengono pagate, no no, di pagamenti che vengono fatti, ma la pubblica amministrazione non riesce a capire che cosa è stato pagato e da chi. Poi a volte può essere che è il cittadino che ha sbagliato a scrivere un codice o qualcosa, altre volte può essere l'amministrazione che ha sbagliato a registrarlo, ma in tutti i casi chiunque abbia sbagliato è un grosso problema, è un disagio per i cittadini, è un costo per le amministrazioni perché o devono mettere personale proprio ad andare a riconciliare le cose, oppure se lo devono far fare da una banca tesoriera, naturalmente con un servizio a pagamento e in genere anche abbastanza costoso. L'altro punto importante è la velocizzazione degli incassi perché Pago.pa è compliant con il sistema europeo SEPA, che è il sistema dei pagamenti a livello internazionale in Europa e gli incassi devono arrivare sul conto corrente indicato dall'amministrazione entro 24 ore, quindi il cittadino paga oggi un comune, un ministero, l'Inps o quale che sia l'ente creditore, i soldi arrivano sul conto corrente direttamente di questo ente entro 24 ore. Anche qui, credetemi sulla parola, non c'è amministrazione in Italia che io conosca che ha questi tempi ad oggi, gli incassi più veloci forse sono quelli fatti attraverso i bollettini postali che mediamente ci mettono dai 4 giorni ad una settimana. Altri sistemi di pagamento, abbiamo visto, fanno arrivare soldi alle pubbliche amministrazioni dopo qualche settimana e in alcuni casi anche di enti molto grandi, qualcuno i soldi li riceve dopo qualche mese, quindi il fatto di ricevere i soldi in cassa entro 24 ore riteniamo che sia un elemento importantissimo. Ultima cosa, nessuna necessità di fare accordi di discussione né con operatori di mercato né con il proprio tesoriere, perché? Perché gli accordi dei prestatori di servizi sono fatti centralmente a livello nazionale da Agide per conto di tutte le pubbliche amministrazioni e da ogni ente che entra nel sistema si trova a disposizione tutti i servizi di pagamento. Le modalità quali sono? Io le ho suddivise tra enti creditori che sono presenti o non presenti in IPA e PSP, questi sono sostanzialmente gli aderenti, non entro nel dettaglio minuto per motivi di tempo, però diciamo che la differenza fondamentale è solo l'inizio del flusso di operazioni, nel senso che a tutti gli enti creditori presenti in IPA abbiamo inviato noi come agenzia d'ufficio le credenziali per accedere al cosiddetto portale delle adesioni, che è l'unica modalità per accedere e per aderire, non deve essere in nessuna maniera inviata comunicazioni o PEC, ma si usa esclusivamente il portale delle adesioni, per accedere il portale ovviamente è riservato, occorrono le credenziali, allora a tutti gli enti che sono presenti in IPA sono state inviate da Agid, a tutti questi enti se non le avessero ancora utilizzate per qualunque motivo il mio invito è non perdete tempo a cercarle chi le avesse ricevute magari mesi e mesi fa e non le ha ancora utilizzate, perché sono credenziali non nominative temporanee, hanno scadenza, quindi contattateci ed eventualmente ve le rispediamo senza alcun problema, gli enti creditori non presenti in IPA ovviamente non le hanno ricevute e quindi il punto di partenza è che ce ne fanno richiesta, poi da lì occorre fare una serie di operazioni, sono repilogate nella slide, ma sono anche nel manualetto di indicazioni allegato in ingresso al portale delle adesioni Pago.pia. Per i PSP non c'è un portale e quindi c'è uno scambio di comunicazioni per cui i PSP fanno richiesta e si stipula un accordo di servizio, anche se ormai le banche che non l'hanno fatto credo che siano quasi zero. I referenti di Pago.pia sono figure fondamentali, nel senso che noi come agenzia richiediamo a tutti gli aderenti, a tutti gli enti aderenti a Pago.pia di nominare dei propri referenti che rappresentino l'ente verso l'agenzia, questo perché molti di loro francamente nemmeno ci sarà mai la necessità di contattarli direttamente perché magari sarà fatto il tutto attraverso intermediari tecnici, il caso più tipico e più classico che riguarda ad esempio l'esperienza di Regione Veneta che poi vi racconterà il collega, è la Regione rispetto ai propri enti, ai comuni, alle asle e quant'altro, però comunque sia è opportuno per qualunque casistica che ci sia un referente pagamenti che rappresenta il singolo ente creditore, il quale ci deve essere, è nominato ovviamente dal legale rappresentante dell'ente in fase di adesione, è la persona che svolge materialmente la fase di adesione formale, effetto alla nomina dell'eventuale partner tecnologico e comunica, questo è l'elemento ovviamente più delicato dei dati che girano sul sistema Pago.pia, comunica gli IBAN dei conti correnti di accredito che devono essere utilizzati, tenete conto che ogni ente può usare i conti di accredito che vuole, ne può usare uno oppure n, c'è addirittura un ente che ce ne ha fatti censire la bellezza di 4 mila conti correnti, quindi non ci sono problemi al numero dei conti correnti, possono essere conti correnti bancari di tesoreria o postali, l'unico vincolo è che esiste una white list dei conti correnti a livello nazionale gestita dal nodo Agid, dal nodo Pago.pia, dove i conti correnti sono inseriti solo man mano che vengono comunicati dai referenti, attraverso il portale delle adesioni di cui dicevamo prima, quelli sono gli unici conti correnti abilitati, se si cerca di far passare un pagamento per un conto corrente che non è compreso, ovviamente viene bloccato. Oltre a questo esiste un referente tecnico, ci sono due possibilità, o il referente tecnico è una persona interna all'ente e sinceramente questa è la casistica solo dei grandi enti, quindi dei ministeri, delle regioni, degli enti centrali come IMSS e INAIL, altrimenti è il referente tecnico del partner tecnologico che io come ente, come singolo comune, come singola ASL ho scelto, che poi sia la regione, una società privata non cambia nulla, è sempre il referente tecnico che deve definire una serie di attività tecniche come dice il nome stesso. I PSP, ovvero le banche hanno anche loro un referente che viene chiamato però referente servizi ed è quello che rappresenta tecnicamente ogni singolo istituto. Le modalità di pagamento essenzialmente sono due, quindi io cittadino come faccio a pagare? La prima modalità è quella presso l'ente creditore, vale a dire io cittadino vado sul sito web o sull'app, quindi fatemi dire sito web per semplicità perché ormai la stragrande maggioranza dell'amministrazione hanno quelle e non ho ancora un'app, ma non cambierebbe nulla, vado sul sito come se andassi su un sito di e-commerce, solo che anziché comprare libri o comprare un paio di scarpe o un vestito o qualunque altra cosa, scelgo i servizi che devo pagare, non importa se i servizi sono che ne so, l'Atari del mio comune o un ticket sanitario della ASL o l'assicurazione casalinghe dell'Inail o il bollo auto dell'Ace o qualunque altra cosa, scelgo quello che devo pagare, scelgo qual è il prestatore di servizi che voglio utilizzare, faccio l'operazione con quel prestatore, ricevo la ricevuta e il giro è finito. La scelta del PSP viene fatta attraverso un'interfaccia che si chiama WISP e è quella che consente di farla omogenea a livello nazionale perché tutte le amministrazioni sono tenute a farla così, in ogni amministrazione non si può inventare ovviamente delle modalità proprie ma deve seguire queste. Questa è la prima modalità, è quella che viene detta modello 1, la seconda modalità che ha il cittadino è il pagamento presso PSP, cioè io cittadino anziché andare sul sito dell'amministrazione che devo pagare, vado dal PSP che scelgo, come ci vado? Ci posso andare fisicamente se vado per esempio a uno sportello che può essere lo sportello della mia banca, può essere una filiale delle poste, può essere il tabaccaio oppure ci vado digitalmente perché magari vado nel mio home banking o vado su un'app della mia banca o vado magari su un ATM, su un self service attrezzato per questo tipo di operazione, in questo caso il giro è leggermente diverso nel senso che c'è un prerequisito importante, naturalmente è che l'ente creditore al singolo cittadino abbia inviato un avviso di pagamento, digitale o analogico che sia, ancora siamo in larghissima misura sulla parte ancora digitale, quindi magari vi faccio vedere un esempio di questo, con quell'avviso il cittadino va, ripeto, o fisicamente o virtualmente presso il PSP e paga tranquillamente, se naturalmente l'avviso è letto dal PSP, questo può essere letto in maniera ottica e quindi non deve nemmeno digitare nulla. Un flash sull'avviso di pagamento che a questo punto diventa un elemento fondamentale ed è questo, l'avviso di pagamento può essere fatto direttamente dall'ente creditore, nulla vieta che l'ente creditore si stampi i propri avvisi di pagamento, oppure può essere fatto da un fornitore che magari era già il fornitore che precedentemente provvedeva a questo tipo di servizio per l'amministrazione. Non è assolutamente detto che debba essere il partner tecnologico, questo lo dico solo perché alcuni partner tecnologici lo mettono nel pacchetto come se fosse indispensabile, no, avvertenza a tutti, se trovate comodo e conveniente che questo tipo di attività la faccia il partner tecnologico che il vostro ente ha scelto, per carità, benissimo che faccia anche questa attività, ma non è affatto indispensabile, potrebbe essere anche un altro fornitore più conveniente, la cosa però fondamentale è che l'avviso di pagamento non può essere assolutamente fatto in maniera con tutto il rispetto di fantasia, anche se non si parla se graficamente è più bello o meno bello, ma deve essere fatto seguendo gli standard Agid, quindi in soldoni se avete già dei fornitori che vi facevano gli avvisi di pagamento anche prima di Pago.pa, potete tranquillamente continuare a utilizzarli, però gli avvisi di pagamento questi fornitori ve li devono fare non come li facevano prima, seguendo magari regole proprie, ma devono rispettare gli standard Agid e sostanzialmente devono contenere le cose che ho scritto qua sotto, quindi una parte di testo ovviamente in cui si spiega al cittadino cosa deve pagare, un codice a barre che viene letto quindi da tutti quei PSP che leggono in modalità ottica tipo i tabaccai, i supermercati ed altri del genere, un QR code che è quello che serve per poter leggere invece con apparecchiature mobile, quindi con telefonini, con tablet e quant'altro e eventualmente un bollettino postale, facoltativo perché? Perché il bollettino postale ad oggi è l'unico strumento utilizzato ancora dal PSP poste italiane, anche con loro stiamo trattando e dovrebbe andare a buon fine l'adozione probabilmente di un codice a barre, però insomma viste le dimensioni di poste italiane non sarà una cosa proprio velocissima attrezzare tutti i loro uffici postali, ad oggi è indispensabile il bollettino postale, è facoltativo però perché? Perché naturalmente un ente creditore potrebbe averlo l'Iban postale o anche non averlo, perché chiaramente un bollettino postale fa riferimento ad un IBAN postale. Salto velocemente avanti perché il tempo salta, nel senso che qui ci sono degli esempi, però francamente vi rilascerei da guardare nella documentazione poi allegata che potreste scaricare, non starei a commentarli, di due tipologie di bollettini di pagamento per farvi dare anche un flash su come sono fatti, uno con i bollettini postali ed uno senza e vado invece a dove si può pagare con pago PA, nel senso che naturalmente una volta era semplice perché io comune potevo magari dire guarda allora questo è il bollettino della Tari che devi pagare e poi andarlo a pagare che ne so alla BCC Pincopalla perché il mio tesoriere è accreditato, oppure c'è il bollettino postale e vai alle poste. Adesso ovviamente è materialmente impossibile fare così perché i prestatori di servizi come vedremo sono quasi 500, quindi nell'avviso deve per forza esserci messo il link della pagina dove pagare con pago PA del sito Agile dove tutti i prestatori di servizi sono presenti, sono presenti e sono ricercabili, anche qui sorvolo per motivi di tempo quali sono le modalità in cui possono essere ricercati dai cittadini, però sono varie modalità di ricerca che tendono naturalmente a rendere la vita più facile a chi di noi come cittadino vuol vedere qual è il prestatore di servizi che può utilizzare per quel tipo di canale o di strumento che vuole utilizzare. Anche qui ho inserito degli esempi che sempre per il solito tempo tiranno, vi lascio da vedere nella documentazione, sono nient'altro che gli screenshot delle pagine Agile, questa è la pagina di ricerca dove si può ricercare un PSP o sulla denominazione o su vari altri parametri, questa è la scheda del singolo PSP, qui è l'esempio di Unicredit che è uno dei primi e dei più completi come servizi che offre con l'elenco delle tipologie di canali che mette a disposizione, quindi lo sportello fisico, l'home banking, il mobile, il phone banking e gli ATM, i self service. Ultimo punto per l'amministrazione e gli enti creditori è la rendicontazione, vi dicevo prima che è automatica da tener conto che può essere fatta in due modi, o una rendicontazione singola, vale a dire ogni PSP che riceve un ordine di pagamento da un cittadino fa un singolo movimento, in questo caso a me e amministrazione arriveranno, se i miei cittadini nella giornata di oggi hanno fatto 100 movimenti, arriveranno 100 bonifici fatti da ogni PSP interessato, in ognuno di essi nel campo causale ci sarà scritto un numerello magico che si chiama UV, identificativo unico diversamento, che mi permette con certezza di riconciliarlo e in maniera automatica. In alternativa, naturalmente abbiamo dato la possibilità ai PSP di ottimizzare, quindi chi deve fare 100 versamenti, non lo costringiamo per forza a fare 100 versamenti fisici, ma li può accumulare in un unico versamento a fine giornata contabile, ovviamente in questo caso deve fare un flusso di rendicontazione che non è nient'altro che una distinta contenente l'elenco di tutti i codici UV, di tutti i pagamenti che sono compresi in quel versamento e quindi anche in questo caso il tutto può essere automatizzato e rendere certa, come dicevo l'obiettivo iniziale, tutta la fase di riconciliazione. Mi fermerei un attimo qui e farei un flash sul feedback del sondaggio se le colleghe mi danno una mano. No. Ecco, sei riuscita ad allargare anche la terza domanda che non riesco a vederla, mi fate una corte di A. mi fa piacere nel senso che la maggior parte dei partecipanti è di un ente che ha comunque attivato i servizi, c'è una certa percentuale del circa 30% che ha fatto l'adesione e non ha ancora attivato alcun servizio di pagamento e infine il 32% che non ha ancora aderito come ente. Ok, diciamo qui sono quasi un terzo, un terzo, un terzo, anche se mi fa piacere che la prima voce, quella diciamo di aver messo a disposizione i servizi, è la principale. Io passerei adesso a farvi vedere quelli che sono i numeri a livello nazionale, quindi toglierei cortesemente la slide con i risultati, i numeri a livello nazionale sono questi, Pago.pa ha totalizzato qualche cosa come 7 milioni e 600 mila transazioni di pagamento, i dati sono aggiornati a qualche giorno fa, come vedete a piede la slide sono aggiornati all'11 di marzo, come lo commentiamo noi questo numero? Lo commentiamo come un numero sufficientemente alto per dire che il sistema è maturo e tecnicamente funzionante, perché vi assicuro da detta ai lavori che un sistema informatico che gestisce 7 milioni e mezzo di transazioni è sicuramente un sistema funzionante e maturo, dal punto di vista però dell'impatto a livello nazionale 7 milioni e mezzo di transazioni rispetto a tutto quello che viene transato dalle pubbliche amministrazioni che è oltre, ci dice Banca d'Italia, il 50% del denaro che transa in Italia è ancora francamente non dico una goccia nel mare, ma una cosa molto, molto bassa. Questa è la situazione degli enti creditori, tenete presente che gli enti creditori presenti in IPA sono circa 20 mila, 16 mila 700 di questi hanno fatto l'adesione e 13 mila si sono comunque attivati, di questi la parte dolente è che solo 2 mila e 300 ricevono effettivamente transazioni dai cittadini. Qui c'è un impatto fortissimo di due casi che cito infatti alla fine, che sono il caso dei comuni e il caso delle scuole, perché tenete conto che sui circa 20 mila enti censiti in IPA ci sono qualche cosa come oltre 8 mila comuni e oltre 8 mila scuole, quindi la parte del leone in termini di numeri, ovviamente non di volumi perché chiaramente un conto è un piccolo comune e un conto è magari l'INA il che conta per uno, ma come vedete da solo ha fatto quasi un milione di pagamenti. Però come numero di amministrazioni ancora quelle che fanno pagamenti effettivi purtroppo sono molto basse, qui vedete un pochino un flash per vedere chi fa più cose, l'INAIL è quella che ha fatto più cose di tutti, soprattutto con le assicurazioni per la casalinga e qualche altro servizio che hanno messo in esercizio, adesso stanno mettendo in esercizio gli altri, la prima regione non a caso, introduce poi il collega Antonino Mola che parla dopo di me, è la regione del Veneto che è stata, dico sinceramente non per fargli una sviolinata ma perché è la verità, la prima regione ad aderire, la prima regione ad attivarsi su Pago.pia e la prima regione ad aderire in una veste, così introduco anche il suo intervento, non solo di ente creditore, ma in una triplice veste di ente creditore per tutti gli incassi della regione, come intermediario per tutte le amministrazioni della regione Veneto e credo che magari non sono proprio tutte quelle che hanno aderito con loro, ma sono veramente un numero elevatissimo e sono anche il primo ente capofila per un gruppo di collaborazione con cui abbiamo adottato la modalità non solo di riuso del software che sarebbe comunque di per sé di legge, ma soprattutto un gruppo di collaborazione per quanto riguarda la collaborazione con altri enti, altre regioni e non solo regioni con cui si riusa il software di regione Veneto, ma soprattutto si collabora dal punto di vista anche dello sviluppo, della manutenzione e della condivisione di quelle che sono le soluzioni rispetto a tutti i problemi trovati o tutte le innovazioni che la tecnologia ci porta. Come PSP i numeri sono questi, abbiamo aderenti 452 PSP di cui 431 sono in esercizio, gli altri non lo sono ancora semplicemente perché stanno lavorando, ma vi dico io che queste sono poste italiane, sono quasi tutte le banche italiane, quelle che sono fuori veramente sono proprio banche microscopiche che magari hanno solamente uno sportello o giù di lì e gli istituti di pagamento o moneta elettronica e più noti dei quali sono gente tipo Sisal, tipo Lottomatica e quant'altro. I numeri li vedete anche qua per curiosità, la parte del leone come numeri la fa ancora poste italiane, comunque intesa e unicredit molto vicine come banche più grandi e più attive. Finisco con ultime due slide che sono non solo una curiosità, ma francamente anche un messaggio un po' a tutti, anche se poi ovviamente non so chi e quanti di voi fanno parte di comuni o fanno parte di scuole, ma sono un flash sui comuni e sulle scuole, proprio perché come vi dicevo un attimo fa numericamente sono due categorie largamente più diffuse, i comuni tra comuni e associazioni sono oltre 8700, le scuole lo vediamo tra un attimo, comunque sono un numero quasi simile, mi pare siano 8400, quindi veramente sono una parte del leone. Ci sono una serie di criticità, nel senso che di 8700 comuni, 6000 hanno aderito e qui già la prima criticità che noi notiamo, io della passo così com'è anche per tutti, ma ovviamente soprattutto per chi di voi lavora nell'ambito dei comuni, il 26% non ha neppure effettuato l'adesione, questo a noi ci lascia un po' perplesso perché fare l'adesione alla fine della fiera è semplicemente fare una cosa formale, inizialmente con Pago.pia quando abbiamo iniziato nel 2013 era semplicemente fare una lettera e inviarla via PEC, dall'anno scorso abbiamo aperto il portale, quindi serve solo entrare nel portale e compilare la domanda lì, quindi non capiamo francamente perché il 26% dei comuni che non c'è dubbio che siano pubbliche amministrazioni, che non c'è dubbio che per loro sia obbligatoria l'adesione ormai dal 2013, francamente non capiamo perché il 26% dei comuni non ha ancora fatto nemmeno la lettera di adesione, il 32% si è fermata l'adesione formale e questo è un altro punto molto critico perché vuole dire che anche tra quelli che hanno aderito il 32%, quindi circa un terzo di quelli che hanno fatto l'adesione hanno inviato la lettera, ma non hanno messo in esercizio nessun sistema e anche questo ovviamente è un grosso problema perché detta con una, permettetemi una battuta, ovviamente l'obiettivo del sistema non è quello di far raccogliere ad Agid 20.000 lettere firmate, è quello che gli enti, i 20.000 enti diano i servizi in esercizio, quindi chi ha compilato la lettera e si è firmato lì, ricordo ci sono addirittura dei comuni che la lettera di adesione ce l'hanno mandata nell'ottano settembre del 2013, sembravano veramente dei pionieri all'epoca, nel marzo del 2018 ancora devono attivare i servizi, francamente ci sembra impossibile che in quasi 5 anni non siano ancora tecnicamente riusciti ad attivarli e quindi c'è qualche altro tipo di problema che dobbiamo insieme cercare di capire e smuovere, ma soprattutto il dato più preoccupante è che il 58% dei comuni non ha attivato alcun servizio, quindi significa che su 10 cittadini se va bene ce ne sono 4 che hanno servizi dal proprio comune automatizzati e poi naturalmente quando dico servizi intendo almeno un servizio, quindi anche quelli 40% che li ha attivati è da vedere quanti ne ha attivati di servizi, questo è per dire che sui comuni c'è tanto, 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 tanto da fare. Ultima slide è sulle scuole, perché è l'altra categoria largamente diffusa in Italia, come vedete sono 8484, sto parlando delle scuole MIUR, per gli addetti ai lavori al netto delle università e degli AFA, è tridente perché non sono 8484 enti che avrebbero dovuto fare 8484 progetti, sono enti che fanno tutti riferimento al Ministero della pubblica istruzione, il Ministero, il MIUR ha fatto un progetto centralizzato, perfettamente funzionante, ormai in esercizio da un anno e mezzo, perché mi pare se non ricordo male dalla metà del 2016, le scuole ce l'hanno funzionante, è gratuito, hanno tutta l'infrastruttura, devono solo inserire ognuno i propri servizi, quindi che ne so, se io sono il liceo Pinco Pallo di Modena, devo mettere magari la mia gita scolastica o il contributo obbligatorio che mi hanno i miei studenti, se sono la scuola media di non lo so dove, è come se avessero un bellissimo negozio pronto con tutte le scaffalature, con tutti i sistemi contabili agganciati, con tutte le cose pronte su cui nessuno di loro va a mettere nessun oggetto e qui la criticità drammatica è che il 98% non ha attivato nessun servizio, su 8484 scuole sono 174 quelle che fanno operazioni, sono il 2%, il 98% di loro non ha ancora attivato nulla e ripeto la cosa è ancora più incomprensibile perché almeno i comuni si devono cercare un intermediario che gli aiuta, in alcuni casi può essere una regione più attiva e in altri meno, le scuole no, le scuole hanno il MIUR che gli ha dato a tutte ugualmente la stessa infrastruttura e quindi qui l'invito francamente a chi di voi lavora nella scuola ci rifletta un attimo, chi di voi ha contatti con la scuola magari ci aiuti a capire comunque quali sono i problemi che rallentano una percentuale così stratosferica, perdonate il termine. Io detto questo ho finito la mia presentazione, quindi essenzialmente ringrazio tutti i partecipanti e cedo la parola poi alla regia ma soprattutto all'intervento poi di Antonino Mola che vi ho già presentato prima, è il responsabile della parte progettazione per quanto riguarda il Veneto, poi Antonino è bravissimo, si presenta da solo, io colgo l'occasione per dargli la parola e per ringraziarla ancora per tutto il lavoro che come Regione Veneto ha fatto e sta facendo. Signori grazie a tutti. Dottor Folletti non so se vuole rispondere a qualche domanda, abbiamo poco tempo, siamo arrivati alle 12.55, sulle scuole in effetti ti hanno fatto delle domande, chiedevano se c'è un esempio di scuola che ha attivato Pago.pia perché è andato abbastanza significativo quello che ti ha presentato. Sulle scuole Michela perdonami, rispondo al volo perché ho visto che ho sporato il tempo quindi cerco di andare proprio di corsa e di corsa. Allora di scuole proprio come pilota eravamo partiti da altre scuole che hanno fatto riferimento che sono il liceo Tasso di Roma, l'istituto alberghiero di Senigallia e l'istituto onnicomprensivo di Grosseto, chiedo perdono però non mi ricordo come si chiama, a tutti però per le scuole dico di fare riferimento al sito del MIUR perché il sistema delle scuole si chiama Pago in Rete e quindi lì ci sono anche i riferimenti dell'Helpdesk o comunque delle persone del MIUR di riferimento. Poi seconda domanda che vedo è per gli F24. Un'altra era rispetto alla conservazione, l'obbligo di conservazione è a carico della PIA o dell'intermediario tecnologico? No, è a carico della PIA, poi se la PIA naturalmente delega le cose a un fornitore vale il solito discorso che poi il fornitore ne risponderà alla singola PIA, però diciamo per quanto riguarda la responsabilità ricade sulle PIA. Poi volevo rispondere sull'F24 per dire che l'F24 ancora non è possibile per il semplice motivo che l'Agenzia delle Entrate ancora non li ha messi in esercizio, c'è un gruppo di lavoro ma francamente non riesco a darvi tempistiche perché non ne ho, c'è un gruppo di lavoro che ci sta lavorando per inserire l'F24 perché anche quelli dovranno stare dentro Pago PIA, ma al momento non sono disponibili, mentre invece è già disponibile l'Ebollo che vedo che è la domanda sotto di Federico Albesano, ecco Ebollo è già disponibile, Ebollo adesso l'unico limite che c'è per il momento è che mi risulta se non è cambiato qualcosa proprio in questi giorni che c'è un unico PSP abilitato dall'Agenzia delle Entrate che è Infocamere. Ok, magari vediamo per le altre domande di rispondere al termine, comunque le lasciamo qua nella chat, magari se vuole rispondere al termine che lasciamo altri 5 minuti alla fine dell'intervento del Dottor Mola, a cui chiedo a questo punto di attivare la sua webcam e il microfono in modo da dare spazio anche a lui per fare la sua presentazione dell'esperienza della Regione Veneto. Grazie, se può fare una prova audio verifichiamo il microfono. Sì, la sentiamo un po' male, perfetto, adesso se alza leggermente la voce io stacco la mia web. Buongiorno a tutti, ben trovati, volevo ringraziare innanzitutto Agid e le parole gentili di Franco che appunto è sempre molto gentile e infattizza il ruolo che abbiamo avuto. Ringrazio anche gli organizzatori di questo webinar per l'occasione che ci danno di poter presentare l'esperienza della Regione Veneto in ambito di Pago.pia. Io mi chiamo Antonino Mola, lavoro in Regione del Veneto, la direzione di CP Agenda Digitale e mi occupo di una serie di progetti di sviluppo dell'e-government nel Veneto. Il mio obiettivo è quello un po' di illustrarvi l'esperienza Pago.pia che abbiamo fatto, sapendo che Regione Veneto sin dall'inizio ha seguito questo progetto con la volontà non solo di essere un beneficiario, ma soprattutto quella di affiancare i vieti del nostro territorio nell'adozione di questa infrastruttura e quindi abbiamo assunto fin da subito il ruolo di intermediari tecnologici. Come vedete siamo partiti più o meno nel 2015, dopo una fase di sperimentazione, quindi in realtà anche un po' prima, abbiamo seguito tutta l'evoluzione di Pago.pia e a fianco ad Agid e a fianco ai PSP che sin dall'inizio hanno aiutato, si sono messi a disposizione della pubblica amministrazione per la realizzazione. Mi scusi, dottor Mola, la interrompo un attimo per chiederle se può avvicinare un pochino il microfono o alzare leggermente di più dal controllo volume, dalla freccetta accanto al microfono, regola volume e microfono, magari alzarlo un pochino perché sentono un pochino male vari partecipanti, grazie. Comunque invito anche loro magari a alzare il volume. Ho avvicinato il microfono, spero si senta meglio in caso me lo segnalate. Sì, dicevo che sin dall'inizio abbiamo cercato di mettersi al fianco dei nostri enti nella fase di adozione del sistema di pagamenti. In questo slide qui vi do l'informazione su quello che è lo stato attuale e quindi dopo una fase di costruzione e consolidamento oggi siamo a una fase di completamento della nostra infrastruttura. Abbiamo circa 300 enti che utilizzano l'infrastruttura regionale e quest'anno l'obiettivo che abbiamo è di completare il dispegamento verso gli enti del nostro territorio raggiungendo tutti i 440 enti che hanno richiesto, hanno aderito all'offerta regionale di intermediazione verso il sistema Pago.pia. Il sistema di pagamenti non è un'iniziativa isolata, quello che sta cercando di fare Regione Vento da un po' di anni è mettere a disposizione un'infrastruttura abilitante verso gli enti del nostro territorio che noi chiamiamo il sistema informativo del cittadino per sottolineare questo cambio di paradigma di infrastrutture che possano essere sviluppate con un'attenzione, con un design di default rispetto all'esigenza dei cittadini. Vedete che quindi i pagamenti elettronici si sediscono all'interno di una più ampia offerta di servizi che la Regione Veneto fa agli enti del proprio territorio cercando di abilitare non solo il sistema di pagamenti ma anche ad esempio il sistema delle identità digitali piuttosto che tanti altri servizi che mettiamo a disposizione come Regione Veneto. L'obiettivo che abbiamo in questa nostra iniziativa è in buona sostanza quello di, come scritto in questa slide, di diritti digitali da distribuire a tutti i cittadini del Veneto. Quello che cerchiamo di colmare è quello di varia di servizi digitali che troppo spesso osserviamo nel nostro territorio, come vedete abbiamo circa 570 comuni, molti di questi, la maggioranza sono piccoli o piccolissimi, con poche possibilità di mettere a disposizione dei loro cittadini dei servizi digitali. L'infrastruttura, il sistema informativo del cittadino vuole essere con l'infrastruttura abilitante per mettere nelle condizioni di tutti i comuni, anche quelli piccoli e piccolissimi, di mettere a disposizione dei loro cittadini appunto un livello essenziale di diritti digitali. Con questo slide un po' diamo indicazione di che cosa ha significato per Regione Veneto introdurre Pago.pia sia come beneficiario che come intermediario tecnologico, quindi tutta una serie di sistemi che adesso cerco di illustrarvi rapidamente. Il primo sistema che abbiamo messo a disposizione del nostro territorio è un'organizzazione. Noi come Regione Veneto svolgiamo ormai da diversi anni un ruolo di affiancamento degli enti del nostro territorio per svolgere questo ruolo, come vedete qui solo alcuni numeri per darvi l'idea delle attività che mettiamo in campo come Regione Veneto, per svolgere questo ruolo necessariamente abbiamo dovuto mettere in campo un'organizzazione che noi abbiamo chiamato Cluster Società dell'Informazione. Quindi sulla base di questa organizzazione il secondo elemento che fa parte degli ingredienti che noi abbiamo messo a disposizione del territorio, il secondo elemento sono la comunità dei nostri colleghi sul territorio, degli operatori della PIA, che è un elemento fondamentale per qualsiasi iniziativa noi portiamo avanti all'interno della nostra attività di e-government, la comunità e quindi quell'insieme di relazioni, di conoscenze, di regole, di colloquio tra chi partecipa a questa comunità diventa fondamentale per accompagnare qualsiasi percorso di innovazione tecnologica sul suo territorio. L'altro elemento fondamentale, giusto per darvi qualche idea di quali sono state anche le pressioni, gli elementi sui quali abbiamo cercato di incidere, l'altro elemento che noi abbiamo cercato di mettere in campo per affrontare il tema dei pagamenti digitali è lo sviluppo delle competenze sul tema, parlare di pagamenti digitali non è così banale, ribadisco soprattutto sugli enti piccoli e piccolissimi, la prima iniziativa che noi abbiamo posto in campo prima di iniziare il nostro percorso verso la distribuzione dei sistemi di pagamento è stato proprio quello di incontrare i nostri colleghi e di cercare di far comprendere qual era il processo che stavamo portando avanti e quali erano i razionali che noi volevamo in qualche modo percorrere assieme a loro. Tutto questo all'interno di una più ampia iniziativa che noi facciamo a livello regionale dove il focus che cerchiamo di mettere in campo è lo sviluppo di queste competenze digitali con un modello particolare che qui ho cercato di sintetizzarvi. Dopo un'organizzazione, dopo la comunità, dopo aver cercato di mettere nelle condizioni di enti del nostro territorio di avere una contezza sul tema dei pagamenti telematici, abbiamo anche messo a disposizione delle applicazioni. Tutte le applicazioni, tutti i sistemi che noi mettiamo a disposizione sono multi-tenant e quindi questo vuol dire che all'interno della stessa applicazione noi ospitiamo più enti che condividano la stessa infrastruttura. La prima infrastruttura che abbiamo messo a disposizione è l'autenticazione federata, quindi un sistema, anche qui noi svolgiamo un ruolo di mediatore nel nostro territorio, capace di mettere a disposizione dei cittadini anche l'autenticazione via speed. Il sistema di pagamenti telematici è qui un'infrastruttura che potesse consentire al cittadino e all'ente di poter mettere a disposizione i sistemi di pagamento per i cittadini che avevano bisogno di utilizzare questo servizio. Un sistema di riconciliazione e regolarizzazione, per chi ha già affrontato il tema dei pagamenti sa che una delle criticità che si affrontano nell'inserire il sistema di pagamenti all'interno del propriamente non è solo avere un'infrastruttura capace di consentire al cittadino di mettere a disposizione il pagamento enesimo, ma la criticità forse più importante che deve affrontare un ente è un sistema capace di riconciliare l'informazione del pagato quando questo viene comunicato dal sistema Pagopia e regolarizzare il pagato stesso all'interno delle dinamiche che sono attinenti ai sistemi contabili degli enti. Quindi Regione Veneto, oltre al sistema dei pagamenti, ha messo a disposizione anche un sistema che incrocia queste informazioni e dà come risposta all'ente se chi ha pagato, quando ha pagato, quando i soldi sono stati riversati sul conto con enti di tesoreria e se i soldi che sono stati riversati nel conto con enti di tesoreria matchano con quanto il prestatore di servizi di pagamento ha dichiarato aver incassato. Quindi con un insieme di informazioni che mettono, tra virgolette, assicuro lente per capire esattamente chi ha pagato che cosa. Le evoluzioni dell'ultimo periodo su MyPivot riguardano la fase di regolarizzazione con la possibilità di imputare al dovuto non solo gli importi ma anche ad esempio i capitoli e gli accertamenti in maniera tale da poter consentire all'ente stesso di poter agganciare il sistema della riconciliazione e regolarizzazione sia al sistema della contabilità sia ai verticali che producono i dovuti per poter integrare quindi tutto il ciclo di vita delle entrate. Ancora un altro sistema che noi abbiamo messo a disposizione all'interno di questa esperienza di pagamenti è stato il gruppo SPAC, qui stiamo parlando di un'applicazione, un GitLab di versioning del software che noi abbiamo messo a disposizione con una serie di regole che consentono alle regioni e gli altri enti che hanno riusato il prodotto MyPay e MyPivot di procedere in uno sviluppo condiviso che consente quindi di mettere a vantaggio comune non solo le risorse economiche quindi con le economie di scala che ne conseguono ma forse soprattutto la possibilità di avere un gruppo di lavoro che si interroga sulle esigenze e sulle varie esperienze e poi cerca di trovare soluzioni condivise che possano consentire a un codice di avere un'unica versione mantenuta da più parti. Vedete su questo slide le regioni e gli altri enti che oggi utilizzano il nostro prodotto in riuso perché queste regioni sono tutte regioni che svolgono a loro volta il ruolo di intermediari per i loro territori quindi il numero di enti che utilizzano l'infrastruttura di pagamenti e l'infrastruttura per la riconciliazione e la regolarizzazione dei pagati quindi il numero di enti è veramente importante. Ancora avere un'organizzazione, avere la capacità di poter portare sul territorio lo sviluppo delle competenze digitali, avere una serie di strumenti che mettono in condizione lente di proporre e mettere a disposizione dei cittadini il sistema di pagamenti abbiamo scoperto non essere la condizione sufficiente per portare sugli enti il sistema. Quindi Regione Veneto all'interno della nostra organizzazione si è fatta parte attiva con dei progetti di dispiegamento. Nel 2017 abbiamo sviluppato un progetto che ha portato, come avete visto nei slide precedenti circa 300 enti attualmente a utilizzare il nostro sistema e l'abbiamo fatto proponendoci una diffusione su una delle modalità più semplici che è quella dei cosiddetti pagamenti spontanei nel 2018 nella fase di completamento della nostra infrastruttura invece stiamo attivando dei progetti per arrivare a integrare i dovuti fino ad arrivare a collegare i sistemi legacy delle amministrazioni. Per far questo ci stiamo concentrando nei comuni capoluogo nella convinzione che una volta gestito il ciclo del pagamento dell'ennesimo dovuto nel comune delle dimensioni maggiori della nostra regione quindi sette comuni capoluogo probabilmente per tutti gli altri comuni l'esperienza fatta dai comuni capoluogo potrebbe essere ereditata in tutto o in parte dando così senso anche a un altro obiettivo che noi ci siamo proposti come Regione Veneto cioè di arrivare a una standardizzazione delle modalità con le quali si mettono a disposizione i pagamenti dei cittadini per da una parte facilitare l'esperienza d'uso del sistema ai cittadini ma dall'altra anche per facilitare lo sviluppo dei pagamenti all'interno degli enti. Una volta che si ha chiaramente un sistema così complesso e delle infrastrutture tecnologiche di questa portata per un numero così elevato di enti necessariamente abbiamo avuto bisogno di mettere in campo un'organizzazione capace di erogare dei servizi e alcuni servizi che potessero accompagnare gli enti del nostro territorio a utilizzare il sistema di pagamenti e metterlo a disposizione dei propri cittadini quindi questo insieme di ingredienti hanno necessariamente bisogno per l'iniziativa dei pagamenti ma mi viene in mente per tutte le altre iniziative che stiamo portando avanti come Regione del Veneto di un forte componente di governance che nella buona sostanza significa luoghi di condivisione gestione delle relazioni, regole di condivisione per concertare con i vari stakeholder che poi intervengono in questi processi di innovazione per concertare con questi stakeholder il miglior modo con il quale sviluppare queste iniziative in questo slide ho voluto riepilogarvi i numeri del nostro nodo, dei pagamenti dandovi tre tipi di informazione la prima è, la vedete, le oltre 400 mila transazioni effettuate dall'inizio della nostra esperienza dei pagamenti e telematici e i circa 89 milioni, circa 90 milioni di euro incassati però se vedete nella parte dove vi elenco i pagamenti per ente potete osservare quanti enti, la stragrande maggioranza in realtà pur avendo aderito al sistema pur avendo messo a disposizione i cittadini i pagamenti in realtà le transazioni sono molto basse e la terza informazione che vi volevo dare su questa slide vi ho messo su quelle tre tabelle una comparazione fra il 2016, 2017 e 2018 dei pagamenti che noi abbiamo avuto come regione Veneto sul tema bollo auto come potete vedere fra il 2017 e il 2018 i pagamenti sul bollo auto sono raddoppiati con numeri considerevoli sia in termini di transazione sia in termini di valori incassati questo trend che stiamo osservando ci dice che c'è veramente un margine di crescita molto importante per le pubbliche amministrazioni per mettere a disposizione questi servizi al cittadino e che forse i cittadini sono molto più pronti di noi per poter utilizzare questi sistemi se ci sono le condizioni per poter realizzare questa attività in un modo quanto più facile possibile per il cittadino stesso per ottenere questo risultato e qui mi ricollego anche a quello che diceva Franco Frulletti nel suo intervento e cioè ci sono molti enti ad esempio sul tema delle scuole che non mettono a disposizione i pagamenti perché non lo fanno noi abbiamo fatto un'analisi molte sono le questioni che impediscono oggi la diffusione del sistema di pagamenti in maniera capillare ecco io vi ho elencato queste che secondo noi sono tra le più importanti abbiamo molti enti che ad esempio potrebbero godere di un sistema nazionale di pagamenti e quindi un'infrastruttura nazionale che si occupi proprio del tema del check out di rimanere con un'infrastruttura nazionale sul tema dei pagamenti invece sentiamo bisogno di linee guida e strumenti per un sistema di gestione dei pagati e dei dovuti che metta insieme sia le pubbliche amministrazioni ma anche le aziende ST del nostro territorio che poi sono quelle sulle quali bisogna puntare per poter sviluppare il tema dei pagamenti ancora il tema delle linee guida sulla comunicazione noi sentiamo fortemente l'esigenza di una campagna della pubblica amministrazione sul tema della diffusione dei pagamenti ma ancora l'esigenza di avere un catalogo nazionale dei dovuti per poter mettere in condivisione uno standard a livello nazionale e infine la possibilità di aiutare e di facilitare la vita al cittadino mettendo a disposizione un fascicolo dove lui possa avere a disposizione tutto quello che deve pagare e che magari ha già pagato la pubblica amministrazione chiudo il mio intervento dicendovi che la nostra infrastruttura è stata premiata con un finanziamento che ci sarà dato sul PON governance questo finanziamento porterà il nostro sistema dei pagamenti a contaminarsi con il sistema dei pagamenti della regione toscana e darà la possibilità a un numero importante di altre pubbliche amministrazioni oltre a quelle del nostro gruppo SPAC di poter avere a disposizione una piattaforma che avrà un'attenzione più importante di quella che abbiamo avuto fino ad oggi sul tema soprattutto della riconciliazione e regolarizzazione facendo diventare il sistema attuale di riconciliazione e regolarizzazione da un sistema di gestione dei pagati a un sistema di gestione dei dovuti la cosa non è banale perché come vi dicevo prima una delle problematiche più importanti che noi notiamo all'interno dei nostri eventi che impedisce l'offerta ai cittadini dei pagamenti è la mancanza di un meccanismo automatico che consenta alle pubbliche amministrazioni di riconciliare che significa avere la giusta informazione sui sistemi che gestiscono i dovuti e regolarizzare cioè avere le giuste informazioni ai sistemi di contabilità in maniera non solo di efficientare tutto il flusso di lavoro ma soprattutto di portare un vantaggio ai processi di gestione del dovuto evitando magari quelle che oggi sono delle problematiche dovute ad accertamenti che magari sono causati da una cattiva gestione delle informazioni della pubblica amministrazione bene io avrei concluso con la mia presentazione spero di essere stato utile qui avete i miei riferimenti se avete bisogno di qualche informazione ecco questa è la mia mail grazie a tutti benissimo dottor Mola effettivamente insomma il pubblico ha gradito molto insomma la presentazione di questa esperienza le fanno i complimenti e appunto anche bella insomma l'iniziativa SPAC e quindi il fatto insomma di incentivare poi il riuso di insomma lavori già fatti anche per altre pubbliche amministrazioni allora come domanda al momento siamo quasi arrivati all'ora di pranzo quindi vedo che già molti stanno ringraziando e salutando io pure vi ringrazio perché i vostri interventi sono stati chiarissimi sicuramente hanno gettato un po' più di luce rispetto insomma a quello che era il panorama pre-webinar e come domanda dottor Mola abbiamo quali servizi di pagamento sono attivi in Regione Veneto per il momento per lei non vedo altre domande sì allora per quanto riguarda i pagamenti in Regione Veneto attualmente abbiamo il bollo auto come Regione Veneto intesa come ente beneficiario il pagamento del bollo auto il pagamento degli oneri demaniali il pagamento dei dovuti sul tema della caccia e della pesca e stiamo proseguendo su altri tipi di pagamenti che la Regione Veneto mette a disposizione invece sul territorio i pagamenti sono innumerevoli nel senso che gli enti hanno messo a disposizione una serie diversa di pagamenti fino ad arrivare ad esempio anche a una sperimentazione che adesso stiamo concludendo per diffondere il sistema di pagamenti anche sulla sanità benissimo allora intanto vedo che ci chiedono se la registrazione verrà pubblicata si verrà pubblicata sia su Eventi IPA che su Youtube dottor Frulletti non so se voleva appunto integrare rispondere a qualche altra domanda abbiamo ancora qualche minuto o comunque commentare appunto anche questa esperienza insomma molto interessante della Regione Veneto grazie Michela sì io coglierei l'opportunità per rispondere a qualche domanda me ne sono segnato qualcuna ovviamente chiedo scusa a tutti che per motivi di tempo e di spazio non riesco a rispondere a tutti però nella documentazione c'è la mia mail e i miei riferimenti quindi ovviamente benvenga qualunque cosa che o mi chiamate o mi scrivete una mail agli indirizzi che poi tanto sono pubblicati io colgo l'occasione per rispondere a qualcuna delle domande che mi sembra di carattere più generale proprio al volo al volo qualche minuto quindi vado quasi a raffica perdonatemi ma insomma proprio per rubare pochissimo ormai tempo allora ci sono state domande sugli IBAN postali qualcuno ha avuto suggerimenti dal nostro helpdesk di indicare anche gli IBAN postali mi chiedevano il perché detto molto sinteticamente il perché sono due motivi fermo restando che è facoltativo come accennavo quando parlavo dell'avviso dei pagamenti sappiamo benissimo che tutte le amministrazioni preferiscono riceverli sui conti tesorerie per ovvi motivi diciamo di praticità su cui operare però gli IBAN postali in questo momento sono essenziali per due cose una è poter utilizzare poste italiane come prestatore di servizi per i propri cittadini cioè poste italiane opera solo su IBAN postali quindi se un ente non espone IBAN postali poste italiane non può essere utilizzato dai cittadini in nessuna forma né con l'on banking né attraverso gli sportelli postali e quindi questo è già un primo importante motivo per cui sarebbe utile esporli il secondo motivo senza entrare nei tecnicismi credetemi sulla parola francamente poste italiane ad oggi è l'unico istituto è l'unico istituto che si è candidata ad agganciare un servizio bancario che si chiama MyBank è un circuito su cui sono attestate ad oggi quasi 200 banche per quanto riguarda la modalità dei pagamenti presso i siti delle pubbliche amministrazioni anche qui perdonate se non spiego i tecnicismi ma non è probabilmente il contesto e sicuramente non è l'ora però se il vostro ente non utilizza un IBAN postale non può agganciare questo servizio di poste quindi quelle 200 banche purtroppo non possono essere utilizzate per fare pagamenti nella modalità sito della pubblica amministrazione questo è il primo tema poi richiesta credenziale cortesemente ho visto che Michela vi ha già scritto l'indirizzo che è portale pagopia chiocciolaagid.gov.it qualcuno mi ha segnalato che sul nostro sito web c'è scritto forse ancora qualcosa di poco allineato di inviare delle PEC no a meno che non siate no direi no in ogni caso utilizzate l'indirizzo portale pagopia quello che Michela ha messo poi ora verificheremo se nel nostro sito c'è ancora qualcosa di disallineato rispetto a questo perché confermo che l'unico modo per fare adesione è il portale delle adesioni per cui occorre avere le credenziali altra domanda era se gli uffici piricerici dei ministeri devono aderire allora tutti gli enti pubblici devono aderire e il tema è dipende dal ministero nel senso che per fare alcuni esempi che ne so il ministero della difesa ha aderito in nome e per conto di 500 enti che fanno parte del ministero della difesa il MIUR ha aderito in nome e per conto di 8400 scuole quindi i colleghi dei ministeri li pregherei in primis di fare riferimento alla loro sede centrale perché per noi un ente è un ente giuridico cioè un signore che ha un codice fiscale ad hoc però se fa parte di un ministero ovviamente è opportuno che si incanali in quella che è l'accordo di carattere generale col ministero altra domanda era su Regione Piemonte confermo Regione Piemonte è finalmente partita ha avuto tante difficoltà devo dire di natura non tecnica mettiamola così però stanno partendo hanno un comune pilota che è quello di Santo Stefano Belbo che mi sembra sia un comune in provincia di Cuneo comunque stanno partendo quindi tutti gli enti che sono interessati possono contattare la Regione Piemonte e in particolar modo la dottoressa Maria Rosaria Napoletano della Regione Piemonte ma finalmente si è sbloccata la situazione e dal pilota in poi stanno partendo poi ci sono state domande su Siope Plus non entro nel merito tecnico però dico che c'è un gruppo di lavoro tra l'altro c'era una riunione proprio stamattina in contemporanea nel nostro webinar in Banca d'Italia e quindi a breve dovrebbero esserci documentazione e input a tutti sull'allineamento di Pago.pia con Siope Plus però è sicuro che c'è altra domanda era se Pago.pia può essere utilizzato per ogni tipo di servizio in particolare per le sanzioni qui la risposta è allora tecnicamente Pago.pia può essere utilizzato sì per qualunque tipo di servizio due punti di attenzione sono attenzione che non sia un servizio che per legge deve essere veicolato ai cittadini anche con F24 perché F24 vi ho detto che ci dovrà stare dentro Pago.pia ma ancora non c'è quindi se c'è questo cavillo legale per cui dovete esporre anche sta cosa su F24 attenzione perché tecnicamente Pago.pia veicola tutto sulle sanzioni in particolari c'è poi un gruppo di lavoro quindi anche qui potete andare già avanti autonomamente ma poi tutti faremo riferimento a questo c'è un gruppo di lavoro nazionale con il ministero degli interni quindi carabinieri polizia stradale guardia di finanza insieme con il coordinamento ANCI delle polizie locali e quindi anche qui ci saranno linee guida a breve in questo senso infine l'ultima cosa che mi sono insegnato è su ibollo sì la conferma può essere usato per qualunque tipo di servizio oggi è partito e mi risulta con il SUAP quello della Camera di Commercio che molti comuni hanno mi pare 3500 comuni ce l'hanno col portale impresa in un giorno però naturalmente per usarlo occorre che l'ente creditore abbia fatto alcuni accorgimenti tecnici per integrare ibollo nella propria soluzione quindi o lo fa l'ente creditore se è grande o l'ente creditore se naturalmente non è uno di quelli grandi a livello regione o ministeri lo concorda col proprio intermediario tecnologico la prima esperienza ripeto è questa del SUAP quindi molti comuni forse anche dei partecipanti ce l'avranno con la Camera di Commercio io Michela mi fermerei qui perché poi non male ce ne sono tante altre ma il tempo è quello che è direi che anzi grazie per queste risposte super flash io veramente vi ringrazio per la chiarezza e anche insomma per la precisione con cui insomma sicuramente avete dato degli elementi in più insomma per avviarsi anche per altre amministrazioni e quindi spero che insomma appunto la strada da percorrere per chi ancora deve attivare Pago Pia sia più chiara e vi ringrazio ringrazio tutti i partecipanti siamo arrivati quasi a 400 partecipanti oggi quindi ringrazio tutti a questo punto chiuderei l'aula e appunto chi è interessato a Speed può iscriversi al prossimo webinar ringrazio veramente il dottor Frulletti e il dottor Mola per la disponibilità e gli interessantissimi interventi grazie e buon pranzo a tutti grazie a tutti anche da parte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti